Bentornati su Starting Six, che oggi può finalmente intonare il suo inno alla gioia per l'impresa storica realizzata dalle ragazze di Giulio Velasco all'Olimpia di Parigi 2024. L'hanno fatto, l'hanno fatto davvero, qui e ora, hic et nunc, come dicono i latini, a Parigi e subito. E da domenica le donne della palla a volo sono leggenda, finalmente, perché quando il treno della storia deve passare, passa alla velocità della luce e bisogna sapersi saltare al volo per tramutare un sogno inseguito da una vita in una realtà quasi difficile da comprendere per la sua grandezza. E' oro olimpico, avete capito bene, oro olimpico per la nazionale di Velasco. A 22 anni dall'altro oro, quello mondiale di Berlino, ottenuto oggi come allora in finale contro gli Stati Uniti, la vittima preferita delle donne quando c'è da vincere qualcosa, ci siamo portati a casa questo trionfo forse inatteso. E all'America abbiamo sicuramente restituito con gli interessi il capone della finale di bronzo dei maschi. In cinque giorni, dal 6 all'11 agosto, le ragazze terribili di Giulia hanno riscritto la storia, buttando giù tre muri che per noi, per le azzurre, sembravano imbalicabili per quanto erano, apparivano, alti. E invece uno dopo l'altro sono venuti giù, saltati come tamberi nei migliori giorni di forma. Cinque giorni per ribaltare la storia, una storia lunga 73 anni, compresi i 24 di attesa e le sette partecipazioni olimpiche dell'Italia femminile ai giochi, dal 2000 ad oggi. E così fare la rivoluzione, quale posto migliore se non la Francia, Parigi, che resterà negli annali di questa disciplina e in quelli dello sport mondiale, oltre che di quello italiano. Già perché il primo oro olimpico della palla a volo italiana, quello che cancella tante cose, a cominciare dall'ossessione della medaglia più pregiata a Cinque Cerchi, oggetto di un'epica che va avanti dal 1992, da quando cioè l'Italia maschile, allenata sempre da Velasco, a Barcellona si fermò nei quarti con l'Olanda, per poi rivivere l'incubo, o quattro anni dopo ad Atlanta, sempre con l'Olanda, ma in finale. Bisogna dire la verità, era diventata un'ossessione, una zavorra nella testa e nel cuore di troppi, anche per le stesse ragazze che dal 2000 ad oggi per ben quattro volte si erano fermate ai quarti di finale. E il destino ha voluto che alla settima partecipazione olimpica fosse proprio Velasco, a 72 anni e a distanza di ben 32 dalla sua prima esperienza ai giochi, a 28 da quella maledetta finale con l'Olanda, a guidare le ragazze alla rivoluzione più bella. Quella appunto che trasforma un'ossessione nel più grande successo di un movimento che probabilmente aspettava solo questo per allo stesso tempo esplodere in tutto il suo potenziale e consacrarlo per quello che già è, potenziale fatto non solo di successi ma anche di numeri impressionanti, di tesserate e tesserati, di 3500 società, di un'attività così capillare a livello territoriale che probabilmente solo il calcio riesce a stargli davanti. Ed è davvero incredibile come nel circuito di un'esistenza, nei corsi e ricorsi storici che ciclicamente tornano a stappare quella che somiglia tanto a una bottiglia di champagne, a far esprimere tutto questo enorme potenziale, tutta questa capacità e conoscenza. Prima con la generazione dei fenomeni degli uomini nel 1989 e ora, 35 anni dopo, con questa banda di ragazze terribili si è stata la stessa persona. L'uomo della plata, l'argentino errante che con la sua filosofia, il suo confondibile accento spagnoleggiante da argentino doc, continua a incantare tutti da 40 anni, da quando arrivò la prima volta a Iesi. Perché oltre alla parata scioltissima della sua bocca escono sempre parole illuminanti, parole, concetti e scelte mai banali. Sembrano saggi culturali, sociologici. Non si tratta, lo ripetiamo, di miracoli, ma di un buon senso applicato alla vita e quindi anche allo sport. Del resto la scelta di Giulio Velasco sulla panchina delle donne era l'unica maniera per ricostruire il disastro dell'ultima stagione che ha portato all'esonoro di Mazzanti, che pure con buona parte di questo stesso gruppo che ha vinto l'oro olimpico, aveva vinto un argento, un bronzo mondiale, un oro europeo e una WNL. Solo Giulio, infatti, che ha vissuto sulla sua pelle errori e sconfitte olimpiche, oltre alle mille vittorie, poteva rimettere insieme i cocci di qualcosa che sembrava rimediabilmente rotto. Solo Giulio poteva restituire unità e determinazione al gruppo, restituendo anche a Legono il ruolo che avrebbe sempre dovuto avere, cioè quella di un'opposta, una giocatrice da qualità tecnica di livello assoluto. E basta, punto. Solo Giulio Velasco poteva togliere la fascia di capitano a una leader nata come l'esuberante Silla e passarlo a un'altra leader più moderata come la Danesi. Solo Giulio Velasco ha potuto stabilire ruoli e compiti chiari senza essere messo mai in discussione, anche per il livello mondiale dello staff di cui ha scelto di contornarsi tra Barbolini e Bernardi, e che forse è un sistema che avrebbe dovuto essere preso, ad esempio, anche dalla nazionale maschile. Solo lui, solo Giulio Velasco, poteva riuscire a scaricare tensioni e pressioni, allentando la morsa sulla testa delle ragazze, a cominciare dal dualismo solo ipotetico tra Econo e Entrapova, che Giulio ha soffocato sul nascere impedendo qualsiasi domanda sul tema, facendo subito intuire che Paola sarebbe stata la titolare fino a prova contaria ed è Caterina la riserva. E utilizzando così nel potenziale combinato di entrambi avete visto che cosa è riuscito a combinare. Senza dimenticare che tutto questo è stato realizzato in appena quattro mesi, perché il primo raduno deciso da Velasco risale solo al 5 aprile, quando fra l'altro non aveva a sua disposizione nemmeno una titolare. Il delicato lavoro svolto da Velasco dal punto di vista psicologico e mentale ha liberato le ragazze di tensioni e pressioni, ha fatto maturare una sorta di capovoro tecnico e sportivo che ha davvero pochi precedenti, perché lo diciamo per i non appassionati e a quelli che si avvicinano solo ora alla pallavolo, in particolare a quella femminile. L'impresa dell'Azzurri ha dell'incredibile, non tanto per il risultato in sé, che già è veramente gigantesco, ma anche per la maniera in cui è arrivato. Sei partite giocate all'Olimpiadi e un solo set perso. In passato era successo solo un'altra volta nel 2008 con il Brasile, insomma una sorta di record mondiale. Per la cronaca l'Italia di Velasco, come la Francia di Gianni al maschile, ha vinto l'Olimpiadi dopo aver vinto anche la WNL, insomma una stagione da favola arricchita da due ori e 21 partite su 24 vinte. Gli unici 3K risalgono alla prima sfida di WNL con la Polonia, quando Velasco non aveva nessuno titolare in campo, poi la seconda partita a Macau con il Brasile e la terza è stata namichevole con la Serbia. Entrando nel dettaglio della finale olimpica, il successo contro gli Stati Uniti è proprio un successo da manuale, è un po' il simbolo di tutta questa Olimpiadi dell'Italia, perché le ragazze di Velasco liberate, come dicevamo prima, dalla zavorra dei quarti finale, hanno liberato anche le loro braccia e come in semifinale contro la Turchia hanno giocato la partita perfetta in tutti i fondamentali, facendo sembrare le campionesse con olimpiche in carica americane, almeno fino a domenica, e a medaglia da ben 5 edizioni di file allenata dal mito Karschirali, una squadetta di inesperte giocatrici, invece che di navigate combattenti, che pochi il giorno prima, due giorni prima, avevano eliminato al tie-break un grande Brasile. Di fatto, l'Italia ha impedito agli Stati Uniti di giocare, ha devastato la Plummer in ricezione, per lei protagonista contro il Brasile, e nel campionato italiano con Conegliano, appena due punti, e su questa Pietra ha costruito tutto il resto di una prestituzione mostruosa, contro la quale chiunque si sarebbe dovuto arrendere. Battute perfette, muro quasi invalicabile, ricezione e attacco da manuali di tecnica, una continuità devastante, come recitano alla perfezione anche i numeri, 11 muri contro 0 dell'Americana, 7 ace contro 3, 47% in attacco contro il 32%, e se andiamo a parlare delle singole, c'è sempre lei soprattutto, Paola Egono, 22 punti con 4 muri, seguita dalla Silla, 10 punti e 2 ace, e dalla Ebbosetti, che ha riscattato la grandissima un avvio di Olimpiadi complicato, quella che più di tutti ha fatto crescere il suo rendimento nel corso della manifestazione, e che contro gli Stati Uniti ha dato spettacolo in ricezione, difesa e attacco, insomma, praticamente perfetta. Accompagnata in questa perfezione da sua maestà Monica De Gennaro, incredibile per rendimento e continuità in ricezione e difesa, un libero che a 37 anni potrebbe continuare, sembra in eterno, a completare una prestazione da tramandare ai posti e la gestione del gioco da parte della Orro, che ci ha messo del suo a distribuire tanti palloni, anche al centro, dove i danesi, 6 punti con 4 muri e far 7 punti, hanno completato l'opera di demolizione delle americane, alla quale ha dato anche il suo solito e solido contributo anche la Antropova, che insieme alla Cambi è riuscito a mettere a terra ben 6 punti negli spezzoni giocati nei 3 set. Uno spettacolo indimenticabile, una superiorità indiscussa come testimoniano anche i premi assegnati per il torneo olimpico, che hanno visto celebrata come MVP la Egon e insieme a lei hanno ottenuto il riconoscimento come migliori nei rispettivi ruoli la Silla come schiacciatrice, la Orro come palleggiatrice, la Danesi come centrale, la De Gennaro come libero, insomma, tutta la squadra. Concludo con una considerazione personale. Dopo 36 anni di attesa, dopo aver vissuto quasi l'inizio di questo lunghissimo viaggio nel deserto della pallavolo femminile quando si andava ai mondiali tipo quello del 1990 senza vincere nemmeno un set o quasi, vivere una giornata come quella di domenica è stata qualcosa di indicibile. Impossibile descrivere le emozioni. Uno dei regali più preziosi ricevuti da questa professione come quello vissuto nel 2002 con l'Oro mondiale di Berlino. Grazie ragazze, grazie Giulio, siete leggenda, un oro olimpico e per sempre, come diamanti. Il trionfo delle azzurre ai giochi di Parigi 2024 è l'ultima tessera di un'incredibile stagione vissuta al femminile, stagione che ha visto il movimento femminile vincere tutto quello che si poteva vincere dalle tre Coppe europee con l'unplanded club Conegliano in Champions League, Chieri in Coppa Cev e Novara nella Cev Challenge Cup alla WNL fino all'Oro Olimpico di più proprio. Era impossibile fare questo il commento del presidente della Lega Palla Volo Serie A femminile Mauro Fabris le nostre fantastiche campionesse hanno regalato all'Italia e al movimento della Palla Volo nazionale la gioia più grande. Il primo oro olimpico del volley femminile grazie e complimenti alle azzurre a Julio Velasco Massimo Barbolini e Lorenzo Bernardi il dream team degli allenatori della nostra Serie A e a tutta l'Italvolley guidata dal presidente Giuseppe Manfredi è stato realizzato il sogno di tutti noi portando la palla a volo femminile di diritto nella storia dello sport olimpico azzurro. Un'impresa epica prosegue Fabris seguita con passione dall'intero paese che ci ripaga tutti le atlete e tecnici per primi federazione Lega e soprattutto le società di Serie A per il lavoro fatto in questi anni e per quanto investito per la crescita delle nostre atlete per strutturare con risorse private i club che hanno costruito il campionato più bello del mondo e favorito la nascita di una nazionale giovane e vincente destinata a rimanere nel prossimo futuro ai vertici mondiali società che nella passata stagione hanno raggiunto il record di vincere tutti e tre i titoli europei per club portandoci stabilmente sul tetto d'Europa tra poche settimane torna la Serie A con la Supercoppa a Roma il 28 settembre e festeggeremo come si deve questo meraviglioso successo dal trionfo olimpico al viaggio magari meno importante ma sempre decisamente formativo della nazionale under 20 guidata da Gaetano Gagliardi che agli europei di categoria in corso di svolgimento a Dublino è arrivata a 5 vittorie su 5 partite dopo Repubblica Ceca Portogallo e Serbia è toccato all'Ucraina e alle padrone di casa dell'Irlanda entrambe superate per 3 a 0 in particolare contro le padrone di casa le azzurre hanno espresso una superiorità davvero imbarazzante anche per il livello tecnico delle ragazze irlandesi che nei primi due set hanno raccimolato appena tre punti vittorie che comunque ribadiscono il primato dell'Italia nella pool 2 in attesa dell'esito delle ultime due sfide del girone eliminatorio contro Polonia oggi alle 21 e Finlandia domani martedì alle 18.30 prima della semifinale e delle finali che si giocheranno venerdì e sabato a Sofia in Bulgaria è difficile analizzare qualcosa che ti fa stare male come vedere volare via tutti i sogni da più grande al più piccolo dopo una stagione di sacrifici quando sai che comunque hai dato tutto quello che puoi quello che avevi dentro per poterli raggiungere per questo parlare della nazionale di Fede Giorgi alle Olimpiadi di Parigi è qualcosa che attiene allo saluto dell'anima che ovviamente non può essere felice perché quest'Italia maschile questa squadra questo gruppo questo allenatore meritano rispetto e riconoscenza per quello che hanno fatto in questi ultimi tre anni anche al netto degli errori commessi nelle ultime due partite all'Olimpiadi di Parigi siamo sinceri nessuno si aspettava vincessero un mondiale a un europeo e anche oltre un altro argento europeo e ora tutti sono sicuri potessero davvero alla prima esperienza olimpica comunità media del gruppo che è quella più bassa vista nelle squadre partecipanti alle Olimpiadi non potessero appunto soffrire di qualche calo di qualche contraccolpo vincendo e così fossero capaci di vincere subito al primo colpo un'Olimpiade l'oro o comunque una medaglia neanche fossero dei Superman in realtà in esperienza si paga e si paga ancora di più in un'Olimpiade è vero contro la Francia in semifinale Francia poi capace comunque di fare il bis olimpico in finale contro la Polonia e con gli Stati Uniti nella finale di bronzo si poteva fare qualcosa di più qualcosa di meglio magari perdere meno nettamente con i padroni di casa e magari strappare una medaglietta agli Bianchè sì ci stava come ci sta anche che sia andata come i riaffetti poi è andata cioè quarti fuori dal giro delle medaglie perché se soffre all'inverosimile prima di eliminare il Giappone ai quarti di finale annullando prima tre e poi un altro match point nel quinto set è normale portarsi dietro quell'insicurezza di cui siamo stati vittimi al servizio nel muro di banda che poi sia regolarmente infatti ripetuta non solo contro la Francia ma anche se non soprattutto nella sfida con gli Stati Uniti con tre set persi ai vantaggi e dove sarebbe passato davvero poco per far girare la partita ma l'Italia è entrata nella buca un po' con il Giappone e poi del tutto in semifinale con la Francia incapace di dare ritme e continuità al suo gioco partendo proprio dal fondamentale più importante il servizio quello che insieme alla ricezione ti dà la sicurezza da quella buca non è mai riuscito ad uscire lo dimostrano gli stessi numeri della finale persa per il bronzo contro gli americani dove abbiamo perso appunto in tutto per sei punti che coincide quasi con il delta tra i nostri servizi sbagliati 18 e quelli di Russell e compagni 13 mentre gli errori sono stati 25 nostri e 18 i loro una zavorra difficile da sopportare che si è trasformata quasi in blocco mentale e che non a caso si è manifestato ai giochi e non ai mondiali due anni fa davanti a oltre 10.000 tifosi polacchi urlanti quando un'Italia ancora più giovane non aveva nulla da dimostrare giocava spensierata e senza pressioni e soprattutto si conosceva relativamente tutto quello che veniva sarebbe stato un regalo come in effetti è stato all'Olimpiata di Parigi invece l'Italia ci è arrivata essendo inserita inevitabilmente nel lotto delle favorite e così ovviamente la prospettiva mentale cambia e come se cambia e quando dopo aver piegato prima Brasile e poi Polonia nel giorno eliminatorio giocando un'ottima palla a volo ed essere uscita indenne con un pizzico di fortuna dalla lotteria contro il Giappone l'Italia si è trovata di fronte la spavalderia e la grande qualità fisicità dei francesi e l'immensità dei giochi si è arenata pesantemente così è arrivato il contracolpo psicologico per una notte difficile post-Francia ammessa dallo stesso De Giorgi e nonostante la reazione ci sia stata contro gli americani appunto nella finale con il bronzo non è stata a sufficienza recuperare quelle sicurezze necessarie per venire a capo di una squadra rognosa come quella statunitense adesso il balletto perfettamente in linea con la tradizione italiana è già cominciato con le sconfitte sono arrivate anche le prime critiche tutte civili per carità tutte legittime ma quasi del tutto infondate De Giorgi secondo alcuni avrebbe dovuto chiamare giocatori più esperti qualcuno ha evocato addirittura i ritorni di Zaysev perché un olimpiade non si può affrontare solo con i giovani ma quella era un'opzione scartata in partenza e dal 2021 non da oggi forse dico forse dopo la sfortuna che ha fermato di nuovo Anzani si poteva chiamare Di Martino invece che Sanguinetti ma siamo sicuri che avrebbe potuto fare la differenza contro quella Francia e contro gli USA ma bisogna essere anche obiettivi fino in fondo Fefe non è stato indenne da errori nella gestione del gruppo durante le due partite incriminate sarebbe stato opportuno un coinvolgimento più sistematico della panchina da Porro a Bottolo per non parlare di Bovolenta Junior già dall'inizio dal girone eliminatorio ma in quella fase l'Italia girava a mille De Giorgi ha pensato di non averne bisogno e poi voleva fare entrare i titolari nel piano del clima olimpico a stress compreso per farlo dopo quando la sicela tecnica ed emotiva si è alzata di parecchio quando si è cominciato a capire che la strategia dei rivali sarà sempre quella di marcare di più la via e il michiretto considerati i veri pericoli della squadra azzurra piuttosto che Romano ci voleva coraggio molto coraggio e De Giorgi ha scelto di tutelare i suoi giovani talenti della panchina invece che di correre il rischio di bruciarli tornando per un attimo indietro alle scelte del CT se poi andiamo a vedere le statistiche di rendimento in attacco dell'ultima stagione di Superlega non troviamo altri fuoriclasse esperti da gettare nella mischia lanza a parte e quando vedi nella stessa classifica che Giannelli da palleggiatore anche se con sei partite in più ha fatto più punti dello stesso bottolo che è scacciatore si capisce che il problema è molto più complesso dire quasi strutturale è scato il fondo del barile ma il fondo è quello ripetiamo De Giorgi poteva gestire meglio le rotazioni soprattutto dando anche un po' più di respiro a Giannelli apparso meno perfetto del solito in questa Olimpiade per provare a cambiare lo spartito del gioco con uno Sbertoli che comunque appena tornato dell'infortunio ha trascinato Trento quindi anche Micheletto e Lavia al trionfo in Champions League ma stiamo parlando di ipotesi che non regalano certezze e in fondo anche per De Giorgi si è trattata della prima Olimpiade d'allenatore e questa considerazione taglia anche un po' la testa a quei paragoni che abbiamo cominciato a leggere da qualche parte i paragoni con Velasco fa Velasco e De Giorgi perché intanto perché la prima Olimpiade è da allenatore Velasco si fermò ai quarti di finale e poi perché lo stesso Fefe non ha un'antropova che gioca titolare in campionato in una squadra da scudetto ecco se vogliono tirare addosso a Fefe ci accomodino pure ma noi non partecipiamo piuttosto fossimo nella federazione andremmo a studiare il fenomeno Francia che quest'anno è stata la nostra maledizione il nostro tabù a livello di pallavollo maschile ci hanno sconfitto oltre che nei quarti di WNL con la squadra dei giovani e nella maledetta semifinale di mercoledì scorso anche con i giovani nelle due finali giovanili che hanno disputato contro di noi cioè all'Europeo Under 22 e all'Europeo Under 18 19 ecco sono risultati che per un paese che ha un campionato nemmeno lontanamente paragonabile al nostro sono davvero eccezionali forse è il caso di dare uno sguardo come lavorano d'oltre Alpe perché in fondo non si finisce mai di imparare anche se sei il movimento più importante direi che possiamo chiedere a Andrea Gianni il primo italiano maschio a vincere un oro olimpico 24 ore prima del trionfo delle ragazze di Velasco peccato indossarsi la maglietta sbagliata quella dei ble vedere il Giangio con le lacrime agli occhi con l'oro al collo dopo la finale con la Polonia ci ha fatto effetto come ha confessato lo stesso Angelo Lorenzetti tecnico di Perugia scudettata a presidere dal professionismo imperante che rende tutto giusto e legittimo ci farebbe piacere sapere come si è sentito il Giangio dopo la semifinale contro l'Italia e con l'oro al collo vestito da galletto noi siamo sinceri avremmo preferito continuare a vederlo vestito da azzurro un po' come ha fatto Lorenzo Bernardi con Velasco certo qualcuno avrebbe dovuto offrirglielo ma alla fine la vita è sempre una questione di scelte appuntamento a venerdì prossimo sempre su Starting Six per fare il punto di questa lunga stagione della nazionale maschile prima della vacanza estive continuate a seguirci